Sicuramente un incarico importante e stimolante, sia a punto di vista professionale ma anche umano. Mi sto rendendo conto, io ho iniziato questa mattina, ma ci sono tante cose interessanti e importanti, ma anche tanti problemi da affrontare via via. Certo ci sono delle scadenze a brevissimo, penso al trasferimento di via 25 Aprile in via Cortatoni, quindi del distretto, della direzione del distretto che verrà trasferita a breve e quindi quella sicuramente sarà una priorità che dovrò affrontare. La cosa che sarà più fondamentale è il rapporto con i cittadini. Il rapporto con i cittadini ha ragione importante perché se riusciamo a essere chiari, a far comprendere le esigenze non solo dei cittadini ma degli operatori, dei professionisti, si riesce a lavorare tutti quanti meglio e rispondere meglio alle esigenze e ai bisogni dei cittadini. Non sempre accade questo, però io ritengo che la comunicazione col cittadino sia fondamentale per lavorare bene.